Start, two, one, instant mission and liftoff! Mentre come vedete dalla grafica qui ci sono robot che vanno, scavano, portano nell'industria, l'industria smelta, produce, c'è la ricerca, ci sono un sacco di cose, ma questo gioco riprende anche la meccanica già utilizzata in altri titoli di programmazione dei droni, cioè potremmo andare a settare le condizioni per far agire i nostri robottini in modo da farli comportare come vogliamo. Quindi se questo è in una determinata condizione portalo di là, di qua, di là, insomma c'è anche un minimo di programmazione, nulla di nuovo ovviamente, però il gioco l'ho trovato intrigante. Ricorda un po' anche Dyson Sphere Programming, insomma, con anche la programmazione dei droni, per quanto non è come fattorio, neanche come Dyson Sphere, perché non camminiamo in giro, guardiamo con la visuale dall'alto. Proviamo il tutorial, perché io l'ho già fatto un pochino, non l'ho finito, però è interessante, per quanto il gioco non sia intuitivo. Praticamente qua ci dice che ci muoviamo con WSD, ci muoviamo col mouse, con queste selezioniamo, selezioniamo lo scout, vedete, e possiamo muoverlo col tasto destro, quindi possiamo cliccare e andare a farlo da lì. Quindi, intanto mi porto avanti, lo mando a scavare i cristalli e questo lo mando a scavare il metallo. Mentre, che non è intuitivo, è il fatto che, sì ho capito, praticamente questo lo dobbiamo andare, sì vai a scavare là però, grazie. Vabbè, in pratica dobbiamo fare il deploy della base, dispieghiamo la base e poi iniziare ad andare. La cosa che non è chiarissima, ok, vedete che qua, dobbiamo andare con lo scout qua, vedete che ci dice, seleziona uno scout con un laser mining, clicca col destro sul metal ore per iniziare a minare. Vedete che però, il nostro amico può fare il metallo perché ha il laser mining e questo no, quindi tecnicamente, va bene. Ogni, diciamo, edificio guadagna funzionalità attraverso i componenti che possono essere costruiti separatamente. I componenti sono piazzati in dei socket che hanno diverse dimensioni, small, medium, large e internal, vedete, small, internal. Tu puoi processare metalli usando il fabbricatore, fabbricatore, prova a equipaggiarlo nel tuo command center, seleziona il command center, piazza il fabbricatore dal suo inventario al socket a sinistra. Infatti, vedete, questo non è molto intuitivo, lo si trascina, lo si mette qua e qua apre un tipo di produzione e la produzione che emette è quella del metallo. Adesso io non capisco perché nel precedente tutorial lui aveva un laser mining e invece questo drone è attualmente inutilizzabile. Comunque, lui ha scavato entrambi, i cristalli ci viene detto che si usano così mentre il metallo va raffinato. Quindi, dobbiamo andare sul centro di comando e cliccare cambiare la produzione e mettere metal bar. Confermiamo. Il tutorial bisogna fare molta attenzione perché se andate non siete più diciamo allineati con quello che vi dice, non ci capite più niente. Ci sarà richiesta una grande quantità di materiale per il futuro, per le future produzioni, suggerisco di costruire uno o due facilities per produrre metal bars. Ok, quindi praticamente si va col B, quindi qua a menù a destra, si costruisce un building, uno per uno, c'è lo storage block e questo, c'è il wall e c'è la foundation. No, facciamo un building, il building, cosa sta a creare il building, e io piazzo, ma posso scegliere la dimensione? Sì, così, vedete che non è chiarissimo, non è una spiegazione, ma... Gran lavoro, sei pronto a espandere la produzione? Ok, seleziona il command set, produce almeno 10 metal bar, cambia la produzione per fare un fabbricatore, perfetto. Quindi andiamo qui, e in questo caso clicchiamo qua, e creiamo un fabbricatore, ne creiamo uno. Ci chiede 10 di metallo. All'interno della base non ne abbiamo praticamente, perché ne abbiamo uno solo, quindi non possiamo, dobbiamo continuare a produrre questi. Ah, ma perché li ho impostati io a ripirla? Li ho impostati io, facciamone 10. Fai 10 lingotti. Intanto vedete che stanno portando la roba da costruire, ma in realtà non voglio. Abort construction, abort construction. Elimina tutto, perché devo farne uno solo. Building uno per uno, ok? Almeno il tutorial mi ha detto di far così. Quindi uno l'ha costruito. Vabbè, intanto stiamo producendo metalli. Il nostro drone sta scavando. Qua possiamo settargli di depositare, quindi richiedere, item, quindi metal ore. E tecnicamente lui dovrebbe portarli. Almeno, se io lo metto qui, dovrebbe andare e scaricare, credo. Almeno dovrebbe, ma non mi pare ne abbia molta voglia. Intanto, building. Vedete che adesso noi stiamo producendo metalli. E a breve, non ne abbiamo più, tra l'altro. Hector chain production, fatemene altre, no? Altre 10. Ok, infatti adesso stanno andando a... Ok, no. Allora, tu continua a scavare. Ci sta andando lui a prenderli. Va bene. Appena ne abbiamo 10. Ne abbiamo 11, ok. Cambia la produzione. E produce questo. Lui che produce se stesso. Vision. No, devi usare questi materiali qua. Me lo fate? Fabbricatore. Cambia la produzione in questo. 4 secondi, 10. Fammene uno, ok. Ok, sta iniziando la produzione e me l'ha prodotto. Perfetto. Gli oggetti possono essere mossi tra gli edifici in un numero di modi. Cliccando, selezione al building. Ah, ok. Facciamo una cosa molto più semplice. Facciamo richiedi item e richiedo il fabbricatore. Ok. Ora, ci ha pensato lui e ce lo porta. Ok, ce l'ha portato. A questo punto, noi prendiamo questo, lo trasciniamo su S e avviamo la produzione di minerali. E quindi, praticamente adesso abbiamo una doppia produzione perché, se vi vado a impostarlo anche di qua, avremo una produzione infinita. Sì, infatti c'è un infinito. Su uno e sull'altro. Queste sono le basi che non sono chiarissime, finché non vi leggete bene il tutorial o non lo provate un paio di volte. Insomma, però è carina, carina come cosa. Avrai bisogno di aumentare il numero di building. Produci due more building per aumentare il metal bar. Ok. B, building, lo facciamo qui. E lo facciamo anche... Ah, lo possiamo fare solo vicino. Lo facciamo anche lì. Ok. Beh, intanto di metallo ne abbiamo. Credo, sì, tredici. Quindi posso dirgli di costruire un altro fabbricchietto. Perfetto. Fammi un altro perché lo fa solo un numero predefinito che gli impostiamo noi in questi casi. Metalli continua, mentre invece questo equipaggiamento qui non lo fa. Beh, intanto non abbiamo metalli sufficienti. No, adesso li ha procurati, quindi perfetto. Possiamo ricominciare a produrre barre di metallo. Qua abbiamo prodotto un'altra e qua ne abbiamo un'altra ancora. Credo. Ok. Sei pronto per produrre una nuova costruzione, il metal, metal plates. Sono prodotti nel fabbricchietto, setup e no production. Piazza un altro building e, ok, fargli fare il metal plates. Ok, allora facciamo un altro building, lo piazziamo qui. E questo li facciamo fare i metal plates. Tanto qui, tecnicamente... Ora, questo non l'abbiamo ancora costruito, è ancora in costruzione. Graficamente non è nulla di spettacolare, insomma. Fa quello che deve fare. Ho costruito questo, ho costruito quello, finite. Cristalli ci mancano forse. Cazzarola. Ci mancano cristalli. Vai a minare cristalli. Dovremmo fargli produrre anche un laser, credo. Se è possibile, no. Assembler. E questo lo dobbiamo fare, a forza. E ci servono cristalli, tante cristalli. Quindi magari potrei improvvisare e farmi il magazzino. Se io faccio qui di darmi i cristalli, portare i cristalli qua. Vediamo se lo può riportare. No, qua non può più farne. E fare uno di questo. Ok. Allora, io vi dico adesso, importami qui un fabbricatore. Tecnicamente dovremmo averlo. Infatti c'è stato portato. Vedete che si vedono i blocchi. Adesso sul fabbricatore, lo trasciniamo qui. E qua gli mettiamo metal plates. Ok. Qua foundation plate. Ok. Non è nulla di nuovo. Per chi magari ha già spolpato altri giochi. O magari gli altri giochi di questo genere non gli sono piaciuti. Perché magari non avevano meccaniche. Questo qua sarà lui. Per produrre più unità di mining, devi fabbricare un assembler, che sarà in grado di produrre work unit, unità di lavoro, lavoratori, con componenti minerali. Devono essere prodotti nell'assembler. È anche in grado di produrre circuiti stampati. Quindi, ok, quindi produciamo l'assembler. L'abbiamo prodotto l'assembler? No, perché ci manca roba. Quindi, tecnicamente, per farlo ci servono 10 di metallo, che è di... Questi quelli, insomma. Qualcun cacchio si chiamano. Portiamo questo. Che magari iniziamo la produzione anche qua. E qua fate metallo anche voi. Metal bar. Qui è metal plate. Ah, ne ha già prodotti le metal plate, però. Va bene. Fabricator può solo produrre materiali base. E noi ci siamo accorti. Fai un fabbricator e piazza l'assembler nel medium socket. Ok. L'assembler l'abbiamo fatto. Lo mettiamo nel medium socket del command center. E qua possiamo produrre, vedete, le cose base, come prima. Ma anche il deconstructor. Anche il miner. E il mining drill. Questo è molto bello perché... Ok. Make one circuit board. Un altro materiale. Devi specificare. Usare l'assemblatore per fare un uplink. Ok. Quindi... Facciamo un circuit board. Questo. Non infinito, ma uno. Così non ci allarghiamo. E poi, tecnicamente, dobbiamo costruire un... Usa l'assembler per fare un uplink. L'abbiamo fatto questo? No. Ah, sì, l'abbiamo fatto adesso. E poi facciamo un uplink. Che ci chiede 5 lingotti. E quello. Ok. Facciamo uno. Perfetto. Aspettiamo che lo facciano. E poi mi piacerebbe produrre il laser minerario da dare all'altro drone che ho in giro. Credo. Che è in giro a fare niente. Ma possiamo fare... Eh, no, mannaggia. Aspettiamo che finisca qua. Perché? Secondo me abbiamo finito... Scusa, potresti andare a scavare qua il metalore? Perché ci manca quello. Però devi fare quello che ti dico, però, eh. Eh, scusami. Fai questo. Scava qua. Eh, il laser minerario ce l'hai. No, Space Inventory. Eh, vabbè, buttalo per terra. Vai. Dovremmo fare il magazzino. Però bellina sta cosa che si può interagire con... Eh, con gli altri. E adesso stiamo aspettando di vedere come succede. Cosa succede? Allora. Allora, il circuito l'abbiamo fatto. Eh... Ci dobbiamo far consegnare... Il circuit board ce l'abbiamo. Cinque lingotti. Ma, scusate qua. Produceteli da solo, i lingotti. Eh, che magari... Ok, l'abbiamo fatto. Eh, sul command center, Aniklip, the fabricator, and place the uplink. Ok. Fabricator lo togliamo. E montiamo l'uplink. Che non so cosa sia. Ah, per la ricerca. Perfetto. Abbiamo stabilito... Stabilito una connessione alla superficie. E abbiamo già iniziato a sincronizzare i nostri database. Con questo siamo in grado di fare ricerca. Sul tech tree, col team, interface. Ok. Praticamente, l'uplink è piazzato per iniziare la ricerca. Accedendo all'albero di ricerca. Eh... Clicca sulla ricerca e clicca il basic tree. Ok. Vediamo. Sì, va bene, lasciamo in pace un secondo. Ce ne sono un po'. Human Intel, Human, Virus, Virus, Advanced, Robot, Basic. Basic, Signals, Basic Power, perché poi bisogna alimentare. Power Transference, Robot Production, Basic Robot, Basic Robotics. Quindi bellino, perché qua diventa molto complicato. Ma non mi dice cosa ricercare il tech tree? Una delle ricerche. Ok. Allora facciamo il Basic Structures. Ci chiede, sblocca i building uno per uno. Ma l'avete già fatto questo, ci avete già. Building due per uno e le plate rinforzate. Il Basic Robot ci sblocca l'assemblatore robotico, medio. Il Dash Bot, che è un upgrade ai laboratori con un inventario maggiorato. Altri edifici e la pietraforma energizzata. Robotic Production ci aggiunge il Twin Bot, che è un per aggiungere delle funzioni ai robot. Il Cub, non so cosa sia. Il Building due per uno. Ok, ci cambia praticamente gli slot che hanno. Vedete, due M e uno I e internal, che sono i potenziamenti interni. Basic Signals, vediamo. Aggiunge il lettore di segnale, il Radar, i Behaviors. Ecco, questi sono quelli importanti Beacon Kit. Ok, il Beacon. Shared Storage. Ok. Perché vedete che qua ci sono, c'è tutta la parte di programmazione dei robot. Secondo me, in conclusione, questo potrebbe essere prendete sempre con le pinze, nel senso che è un gioco diverso da Dyson Sphere ma mi dà le stesse sensazioni di cosa nuova, di cosa intrigante che durerà decine e decine di ore anche in Early Access le stesse sensazioni che mi dava Dyson Sphere. Seppur diverso, perché qua non camminiamo col Mac per la mappa ma abbiamo questa gestione qui. però sembra veramente, veramente figo. Sembra ben fatto. Qua abbiamo il prefab, quindi per impostare delle costruzioni personalizzate il Control Center, quindi la gestione dell'energia che il tutorial non ci ha ancora fatto affrontare il Codex con tutte le informazioni il progresso con tutto il tutorial perché questo è solo il tutorial poi il gioco inizia, vediamo un attimo che vediamo il menu principale potete giocare anche in co-op con amici New Game Multiplayer quindi c'è la possibilità di ostare una partita c'è il New Game con il Seed modalità pacifica o stile ci sono un sacco di cose la corruzione blight, delle malattie e del ciclo giorno-notte e la durata del giorno cioè di cose da fare ce ne sono assolutamente The Sims assolutamente una delle sorprese di questa seconda metà del 2023 attendo i vostri pareri i vostri commenti qua sotto come al solito non lo chiedo mai ma stavolta lo farò se vi va e volete restare informati insomma su tutti i giochi che escono iscrivetevi e non costa nulla insomma io sono contento ciao e alla prossima